buongiorno bentrovati buon sabato 22 luglio oggi la chiesa festeggia santa maria maddalena maria forse originaria di magdala era una donna che venne liberata ci dovevamo diritta luca da sette demoni da gesù liberata dall'oppressione demoniaca maria signora gruppo delle altre donne che assistevano a quei loro beni gesù agli apostoli e lo sostenevano durante il suo ministero la sua presenza fu preziosa il suo amore per gesù fu grandissimo gli evangelisti infatti ricordano che maria maddalena era ai piedi della croce fu la prima ad andare al sepolcro e ebbe la gioia per prima di incontrare gesù risorto e corse a portare l'annunzio agli apostoli posto che non credetterlo le sue parole ma dopo l'incontro con gesù si vergognarono della loro incredulità per questo maria maddalena è anche apostola degli apostoli ci affidiamo la sua intercessione perché ci aiuti davvero ad amare gesù come lei lo ha amato ecco il vangelo di oggi lettura del vangelo secondo giovanni in quel tempo il primo giorno della settimana maria di magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio e vede che la pietra era stata tolta dal sepolcro maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva mentre piangeva si chiunva verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di gesù ed essi le dissero donna perché piangi rispose loro hanno portato via il mio signore e non so dove l'hanno posto detto questo si voltò indietro vide gesù in piedi ma non sapeva che fosse gesù le disse gesù donna perché piangi chi cerchi ella pensando che fosse il custode del giardino disse signore se l'hai portato via tu dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo gesù le disse maria ella si voltò e disse in ebraico rapuni che significa maestro gesù le disse non mi trattenere perché non sono ancora salito al padre mio e padre vostro ma di ma fa dai miei fratelli e di loro salgo al padre mio e padre vostro dio mio e dio vostro maria di magdala andò ad annunciare discepoli ho visto il signore e ciò che le aveva detto parola del signore l'episodio dell'apparizione di gesù risorto a maria maddalena è giustamente molto famoso e infatti lo si legge tutti i giorni tutti gli anni il giorno di pasqua maria maddalena ha amato molto gesù con cuore pure casto e è rimasta fedele a lui finirà accompagnarlo ai piedi della croce per questo gesù gli ha fatto la grazia di essere la prima ad incontrarlo da risorto è interessante notare come il vangelo sottolinei la fatica di maria maddalena a credere del magdala non anche lei non riconosce subito gesù quando lo vede pensa che sia il giardiniere sta ancora cercando il corpo del defunto cercando un morto e invece incontra il vivente ora questo ci fa capire che non dobbiamo vergognarci se alcune volte abbiamo delle incertezze nel credere però dobbiamo amare gesù e questo ci aprirà il cuore a una fede profonda e vera gesù infatti ci porta al padre e ci unisce profondamente a dio trinità d'amore padre figlio spirito santo lasciamoci guidare dell'amore come maria maddalena cerchiamo di seguire sempre gesù e il nostro cuore sarà pieno di gioia preghiamo gli uni per gli altri buona giornata sia lodato gesù cristo